Era stata ampiamente prevista e preventivata, come post-evento neve, un'emergenza idrogeologica dovuta alle previste precipitazioni piovose che avrebbero accelerato il discioglimento della coltre nevosa presente sul terreno. Non a caso infatti pende sulla testa della parte centro-settentrionale delle Marche da ieri un'allerta meteo arancione per criticità idrica e idrogeologica. Oggi alle 13.30 il colore d'arancione è passato giallo ma il rischio permane, visto il perdurare della pioggia che cade incessantemente fin dalle prime ore di questa mattina. Smottamenti, cedimenti e piccole e medie frane hanno interessato un po' tutta la provincia, principalmente però nel Metaurense. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle zone interne, come numerose le frane di diversa ampiezza, verificatesi nelle ultime ore. La strada che conduce a Montegiove nel suo tratto iniziale partendo dalla Flaminia ne conta ben 5 di piccola entità, ma tutto in movimento, anche se per il momento non è stato necessario inibire il traffico, la carreggiata comunque risulta in parte ostruita. Ieri è stato non poca preoccupazione tra gli abitanti di via Ottava Strada nella zona industriale di Bellocchi, il fosso degli uscenti che minacciava di uscire e lambire le case, eventualità per la quale poi sono stati posizionati preventivamente dei sacchetti di sabbia. Monitorato dalla protezione civile oggi però il fosso non ha destato preoccupazione. Sorvegliato speciale anche l'Arzilla, soprattutto alla foce dove il livello delle acque però non ha mai raggiunto quello di guardia, mentre nella zona della selva è leggermente strabordato nei campi. Nel comune di Colli al Metauro, al confine con quello di Cartoceto, chiusa la strada che da Ripalta porta a Barni per una frana che ostruisce tutta la sede stradale. Stessa sorte è toccata la strada dei Tuffi nel comune di San Costanzo, dove lo sperone di un terrapieno ha ceduto invadendo la strada. Ma tutto il fondo valle è stato invaso dal fango e dalla terra. Ne ha fatto le spese anche il mezzo della nostra truppa, arrivata sul posto per documentare lo smottamento, ma rimasta inevitabilmente bloccata nel fango. A tirarci fuori d'impaccio la gentile opera di un abitante della zona che con il suo cingolato ci ha rimesso in carreggiata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!